Ho accettato di partecipare a questo spettacolo perché sono stato trascinato dall'entusiasmo di chi me l'ha proposto, dopodiché quando ho effettivamente realizzato che si trattava di uno spettacolo senza regia, in cui avrei conosciuto il testo la sera stessa davanti al pubblico, a quel punto era troppo tardi per tirarsi indietro. Se dovessi sintetizzare con un aggettivo il mio stato d'animo rispetto a questo spettacolo direi spaventato perché comunque tutti gli effetti è un salto nel vuoto e perché soprattutto sostiene un importante progetto, un anno per la libertà di scrittura. Grazie a tutti!